Rastrellate 13 piazze di spaccio nel Foggiano, 4 i quartieri ad alta densità criminale finiti nel mirino della polizia, 37 arresti e 43 indagati per un giro d'affari illecito che si aggira intorno ai 4 milioni di euro al mese, confermata la detenzione in carcere per 26 soggetti, 6 ancora ricercati. Sversamenti illeciti di acqua e reflue industriali a Margherita di Savoia, sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati per una condotta reiterata e segnalata dai bagnanti già durante i mesi estivi. Carabinieri e guardia costiera hanno avviato le attività per analizzare gli scarti e depurare la zona. Tre giorni dedicati alla filosofia, torna a Castellana Grotte, Philosophars. Ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud, apriamo questa pagina dedicata alle province di Bari, Labatte e Foggia con la cronaca. Andiamo subito nel Foggiano dove sono stati confermati gli arresti per diversi indagati nell'ambito dello spaccio di droga. Rastrellate 13 piazze di spaccio e nel mirino 4 quartieri del Foggiano ad alta densità criminale, 6 sono ancora ricercati. 100 episodi di spaccio, 10 mesi di indagini, passati al setaccio 4 quartieri ad alta densità delinquenziale nel Foggiano. Adesso arrivano gli arresti. Il GIP di Foggia, Giuseppe Ronzino, ne ha convalidati 37 sui 43 disposti, mentre 6 persone sono ancora ricercate. Sono gli indagati coinvolti nell'operazione antidroga portata a termine all'alba del 10 ottobre dalla Polizia di Stato a San Severo. Il giudice ha confermato la detenzione in carcere per 26 indagati, gli arresti domiciliari per 8 e rimesso in libertà altri 3, imponendo loro l'obbligo di firma. Agli indagati, la gran parte dei quali si avvalsa dalla facoltà di non rispondere, si contestano numerosi episodi di spaccio. I quartieri interessati, Texas, San Bernardino, le case popolari di via Mario Carli e via Giulio Cesare. 13 in tutto, le piazze di spaccio smantellate dalla Polizia. Il giro d'affare illecito degli indagati, secondo chi indaga, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro mensili. Per la prima volta nel Foggiano sono stati utilizzati due agenti sotto copertura in un blitz antidroga. E sono 4 invece gli indagati per una condotta reiterata e già segnalata, pensate, dai bagnanti durante i mesi estivi relativamente a sversamenti illeciti di acque reflue industriali. A Margherita di Savoia, la compagnia locale dei carabinieri e la guardia costiera cittadina hanno avviato tutte le attività utili per analizzare questi scarti e soprattutto depurare la zona. Sversamenti abusivi di acque reflue industriali direttamente provenienti da diverse aziende del territorio e la scoperta fatta a Margherita di Savoia dalla compagnia locale dei carabinieri e dalla guardia costiera cittadina nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Gli scarichi non autorizzati avrebbero messo in pericolo non soltanto gli ecosistemi delle zone balneari di Margherita ma anche l'incolumità stessa dei bagnanti nel corso dei mesi estivi. L'attività investigativa condotta dalle autorità competenti infatti ha accertato la continuità degli sversamenti sul lungo periodo escludendo possibili casualità o malfunzionamenti nello scarico delle acque reflue industriali. Ad accendere i riflettori sulla vicenda, le numerose denunce giunte nell'arco degli ultimi mesi con alcuni corsi d'acqua che presentavano delle macchie e degli odori di dubbia provenienza, Le indagini effettuate hanno permesso di risalire alle cause delle problematiche ambientali che, se reiterate, rischiano di compromettere salute e ambiente. Sarebbero quattro le persone iscritte nel registro degli indagati che a breve dovranno rispondere delle accuse mosse dagli organi competenti. Si attendono sviluppi mentre guardia costiere e carabinieri hanno già avviato le operazioni per depurare la zona. Nel Foggiano sequestrati 40 impianti abusivi utilizzati per l'eticoltura. Oltre 40 impianti per l'eticoltura ritenuti abusivi sono stati sequestrati nel lago di Varano, nel Foggiano, dai finanziari della sezione operativa navale di Manfredonia e dell'attenenza di San Nicandro Garganico. Le indagini sono iniziate dopo che un elicottero delle fiamme gialle, impegnato nel controllo costiero, ha notato due pescherecci intenti a svolgere attività di eticoltura nel lago, un'area protetta che rientra nel Parco Nazionale del Gargano. I finanzieri, durante i sopralluoghi, hanno accertato la presenza di numerosi impianti e l'assenza di autorizzazioni all'occupazione del demanio marittimo. Gli impianti abusivi sono posizionati nella zona di lago di pertinenza del comune di Cagnano Varano e avrebbero messo in pericolo la sicurezza della navigazione, in quanto non segnalati, oltre la fauna e la flora autoctone, dell'area protetta, caratterizzata, quest'ultima, da un particolare e delicato ecosistema. Per questo motivo il GIP di Foggia ha disposto il sequestro preventivo dei manufatti. Un altro brutto fatto di cronaca a Bisceglie. Un gruppo di ragazzi ha vandalizzato il parco giochi adiacente alla scuola Pertini, cocci di vetro e altro materiale dannoso contro l'area per bambini nella zona 167 cittadina e forte. La denuncia del sindaco Angelo Antonio Angarano che nei giorni scorsi ha incontrato i residenti della zona. Venerdì è previsto un incontro in prefettura per firmare un bando ad hoc sulla sicurezza. Vandalismo giovanile contro il decoro urbano di Bisceglie con grossi pericoli per i più piccoli. La denuncia arriva direttamente dal sindaco Angelo Antonio Angarano che sui suoi canali social ha diffuso un video in cui alcuni ragazzi lanciano bottiglie, cocci di vetro e altro materiale estremamente dannoso contro il parco giochi di piazza Filippe Hackert all'esterno della scuola Pertini. Il punto di ritrovo frequentato sia dagli allunni del vicino istituto sia dai residenti della zona 167 Bicegliese è stato vandalizzato da alcuni giovani che trascorrono le serate nel quartiere. La zona è stata prontamente ripristinata dalle forze dell'ordine e dai servizi ambientali cittadini ma d'esta preoccupazione il clima che si respira in strada. Angarano ha recentemente incontrato i residenti che hanno lamentato il comportamento dei ragazzi spesso di sfida e volto allo scontro. Il primo cittadino ha annunciato il potenziamento della videosorveglianza, dell'illuminazione pubblica e del pattugliamento della zona. Venerdì incontro in prefettura per firmare un bando ad hoc per la sicurezza. E a proposito di sicurezza e anche cultura della legalità da diffondere tra i giovani c'è un patto educativo che è stato firmato a Foggia e vede la sinergia tra istituzioni, enti, forze di polizia e associazioni del terzo settore. Firmato nella prefettura di Foggia il patto educativo provinciale. Il documento è stato sottoscritto da prefettura, procura, ufficio scolastico regionale, università degli studi di Foggia e diverse arcidiocesi e diocesi locali. Il prefetto Maurizio Valiante ha così lanciato l'idea di una cabina di regia per promuovere la cultura della legalità e cittadinanza attiva. All'incontro presenti anche i vertici provinciali delle forze di polizia impegnati al fianco della prefettura nell'attività di affermazione dei valori di legalità e sicurezza sul territorio provinciale, alla base della ordinata e pacifica convivenza civile delle comunità cittadine. Attività pubbliche, culturali ed educative con il più ampio coinvolgimento della cittadinanza, degli enti territoriali e delle istituzioni, allo scopo di sensibilizzare la popolazione giovanile per sviluppare una coscienza sociale sui temi della partecipazione attiva e corretta alla vita pubblica. Queste alcune delle iniziative previste in un'ottica di perseguimento dell'obiettivo prioritario dell'educazione e la legalità come componente indispensabile per una migliore qualità della vita ed un equilibrato e armonico sviluppo della società e del territorio. La nascita del patto educativo provinciale è scaturita dalla necessità di garantire migliori opportunità di vita in un contesto sociale attraverso un'alleanza tra tutti i soggetti che concorrono alla definizione di un villaggio dell'educazione. In tal senso il patto si basa su un approccio partecipativo, cooperativo e solidale tra chiesa, scuole, università e istituzioni. Terzo settore è Caritas, mondo delle associazioni e ancora famiglie, imprese, società civile e cittadini. Continuiamo a parlare di politiche dedicate ai giovani. Il padiglione 71 dell'ente fieristico di Foggia sta accogliendo studenti da tutta la regione Puglia in occasione delle tre giornate di Orienta Puglia. Evento dedicato, come dice lo stesso nome, all'orientamento scolastico, universitario e anche professionale. Un'emozione bellissima, guardi. Questi due anni lunghissimi sono stati terribili e ora tutti questi studenti qua sono una gioia enorme. Studenti di tutta la Puglia giungono al quartiere fieristico di Foggia per la tre giorni di Orienta Puglia. L'evento dedicato all'orientamento scolastico, universitario e professionale della regione organizzata dall'Associazione Aster. Un appuntamento con il futuro per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Un'occasione unica per ogni singolo studente di entrare in contatto diretto con le più importanti istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale ed internazionale. Allora, dunque, qua sono presenti tantissime università, accademie, istituzioni fondamentali tutti per dare quell'input fondamentale per scegliere con consapevolezza, perché oggi l'importante è scegliere con consapevolezza, perché vai dritto, veloce, non ti fermi. Come li vedete questi ragazzi? Allora, guardi, io devo dire che la Puglia è sempre stata una delle regioni molto belle anche da un punto di vista, diciamo, studenti appassionati. Allora, ragazzi, siete qui per cercare di orientarvi, per organizzare il vostro futuro. Avete le idee chiare? Sì, dai. Io sono molto indecisa, perché arrivando qui vi di tante di queste accademie che dici, wow, adesso voglio fare quella, voglio fare quell'altra, voglio fare tante cose, non si capisce niente. Siete andate in qualche padiglione? No, ancora no. Cosa vi aspettate? Eh, che, diciamo, mettere un po' l'idea a posto, perché ho una confusione adesso in testa, incredibile. È vero che i giovani non vogliono studiare? No, non è vero. Dipende dai giovani, dai giovani che magari hanno voglia di fare, ai giovani no. È lungo e forte il grido di disperazione da parte di tutti i cittadini, da nord a sud, relativamente al caro Bollette, al caro Vita e anche alle liste d'attesa. E a proposito di liste d'attesa infinite o addirittura chiuse, un diritto di fatto negato, soprattutto per gli anziani e i meno abbienti, i sindacati, in particolare la CGL, scende in piazza per protestare contro questa annosa questione. Noi abbiamo seguito il presidio del sindacato che si è tenuto davanti alla sede del distretto sanitario a Margherita di Savoia, nella BAT. Guardiamo che cosa è accaduto. C'è chi la prenotazione di una visita medica se l'è vista fissare a metà del 2023 e ci sono anche situazioni più estreme con la chiusura delle agende di prenotazione. Così, soprattutto per le persone anziane e fragili, poter entrare in lista d'attesa per una visita medica diventa una sorta di storia infinita. Situazione non più tollerabile, lamentano i rappresentanti sindacali dello SPI CGL. Nella BAT hanno deciso di protestare in maniera pacifica con una iniziativa itinerante. Qui siamo a Margherita di Savoia, davanti alla sede del distretto sanitario. Sui cartelli campeggia il grido d'allarme di chi si vede negare un diritto sancito dalla Costituzione, quello alla salute, per le liste d'attesa infinite. Situazione che si aggrava per anziani e meno abbienti, che non possono permettersi le prestazioni a pagamento. Per questo, ribadiscono i rappresentanti sindacali, le liste d'attesa non vanno sospese. Noi chiediamo che ci sia l'abbattimento dei tempi di attesa delle liste, perché purtroppo nella salità accadono cose, voglio dire, che possono essere di normale amministrazione, invece poi la discussione vera è che poi il pensionato, l'anziano più fagili, sono costretti a rivolgersi ai privati. E quindi sta passando la logica e il principio che il privato può essere la soluzione alle visite mediche, alle prestazioni e quant'altro, sapendo che abbiamo una legge, la legge 13 del 2019, che dà la possibilità per chi viola i tempi di attesa di poter chiedere eventuali prestazioni in sostituzione. E per dare invece ristoro ai cittadini piegati dal caro Energia, il Comune di Trani ha stanziato un contributo di 150 mila euro destinato alle fasce di popolazione più deboli che stanno fronteggiando i rincari. Nei prossimi giorni sarà diramato un avviso pubblico, mentre l'amministrazione comunale di Trani continua a battersi per il supporto del governo in una fase così delicata anche per le casse di palazzo di città. Un contributo comunale di circa 150 mila euro per ammortizzare il caro Energia che sta colpendo i cittadini è la mossa del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha presentato la proposta rivolta ai residenti, un avviso pubblico per accedere al supporto economico comunale, strategia di aiuto per il pagamento delle utenze domestiche del 2022. Non aspettiamo il nuovo governo perché la gente non può aspettare e per questo ci siamo mossi con risorse comunali, abbiamo come si suol dire raschiato il fondo del barile e trovato 150 mila euro che destiniamo al caro Bolletti. Cercheremo di aiutare chiaramente le fasce più deboli per cercare appunto di fronteggiare un momento critico del nostro paese. Lo facciamo, partiamo subito per questo motivo, chiaramente poi ci aspetteremo invece aiuti da parte del governo, sia per la comunità tranese, sia anche per noi comuni, visto che l'energia è diventato un costo insostenibile anche per noi. Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione sui canali dell'amministrazione comunale senza perdere di vista le responsabilità future del governo nei confronti di cittadini e comuni. Trani cerca una soluzione tampone per i residenti. E a Bari, in regione, è stato presentato il calendario di appuntamenti dedicati alla giornata del pane di Altamura. Una giornata dedicata al pane di Altamura, circa 20 anni dalla prima certificazione DOP d'Europa e per riscoprire le radici comuni. Il centro murgiano è pronto a spalancare le sue porte. La data è quella del 16 ottobre prossimo. Dalle opportunità offerte alla filiera dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'installazione dinanzi alla Chiesa di San Domenico, ispirata alla transumanza, e poi laboratori, degustazioni, le aperture straordinarie dei musei, per tornare al gusto del pane, a dirla con le parole di Monsignor Giuseppe Cagliazzo, citate dal Santo Padre e diventate poi motto dell'ultimo congresso eucalistico nella vicina Matera. Il segreto del pane che sovente viene chiesto ai nostri panificatori, sicuramente la scelta delle materie prime, siamo la rimacinata di grano duro, come prima diceva il presidente del consorzio, ma anche il lievito madre, anche l'acqua, anche il sale. Poi per quel che riguarda la crosta croccante e quella mollica così soffice alviolata del pane Altamurano, non possiamo che dare il merito a quelle mani che per secoli hanno lavorato quella pasta e che poi hanno tramandato di generazione in generazione quel grande lavoro. Abbiamo colto questa grande opportunità offerta dalla giornata mondiale del pane per celebrare il prodotto rappresentativo e identitario della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Un ricco programma di eventi, di iniziative che vanno dalla mostra di artisti contemporanei al cooking show, sono iniziative davvero importanti che noi vogliamo cogliere per porre in essere una serie di azioni concrete e sinergiche che possano metterci in comunione con il resto del mondo e creare proficchi i rapporti economici, sociali e culturali. Dal pane all'olio, l'oro verde di Puglia, celebrato nel corso di un'iniziativa organizzata nel comune di Grumo Appula per rievocare le tradizioni con la merenda del Frantoiano. Un pezzo di pane, acciughe e olio fresco, sull'antica traccia dei sapori locali, rivive la tradizione della merenda del Frantoiano, tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. A Grumo Appula, nella sala consigliare del comune, la presidente della Proloco, Nica Caputo, ha presentato l'evento che richiama quel passato ancora pulsante nella nostra terra, che è identità e ricco patrimonio da preservare, a partire dall'oro verde di Puglia, l'olio di cui sono state illustrate durante i dibattiti, virtù e delicati processi di produzione. L'evento si chiama Lambrenne du Trapteur e richiama appunto la colazione dei nostri contadini che facevano proprio nel Frantoio. Avveniva proprio questa colazione a base di bruschetta e di olio appena filtrato e si assaporava appunto l'olio, l'alimento nutritivo ed eccellenza del nostro territorio. Che dire, l'evento si svolgeva essenzialmente a novembre perché era l'ora che c'era la raccolta, però nel tempo abbiamo anche notato questo, che i frantoiani non davano partecipazione a questo evento quando loro erano protagonisti a fianco a noi che comunque organizzavamo l'evento. Ebbene, per la prima volta l'abbiamo anticipato ad ottobre per far sì che loro ci fossero. Ci sarà proprio Palmo Palumbo che appunto parlerà di tutto quello che accade nel Frantoio. Appuntamento con la filosofia Castellana Grotte. Gli interventi dei filosofi Matteo Morganti, Maria Benedetta Saponaro e Adriano Fabris, l'interessante monologo su Leonardo da Vinci, il codice del volo di Flavio Albanese, l'affascinante live musicale del trio Borders, composto da Pierpaolo Martino al contrabbasso, Alessandro Pipino organetto e Fisa Armonica ed Enzo Granello a voce chitarra, ma anche gli interventi del direttore scientifico Paolo Ponzio e il workshop di filosofia Ludens nella mattinata di domenica con Annalisa Caputo e il suo staff. Va in archivio l'edizione 2022 di Filosofars, il festival della filosofia e delle arti umane. Dialoghi filosofici, arti umane e laboratori didattici per bambini hanno animato di profondità e cultura per due serate, venerdì 7 e sabato 8, la grave delle grotte di Castellana e per una mattinata, quella di domenica 9 ottobre, il Museo Anelli, sempre nell'ambito del complesso carsico castellanese. Filosofars si conferma evento in grado di costruire attorno ad un singolo tema, con fini, quello scelto per il 2022, un percorso di approfondimenti e riflessioni, ma anche di sorrisi e applausi. Quest'anno ad arricchire il tutto anche il contributo di circa 25 bambini che nella mattinata di domenica hanno letteralmente giocato con la filosofia e la cittadinanza attiva, guidati dal gruppo di ricerca dell'Università di Bari, abecedario della cittadinanza democratica. Parte il 22 ottobre la stagione del Teatro Kismet di Bari e lo fa all'insegna degli sconfinamenti. 35 gli spettacoli in agenda a cura di Teresa Ludovico. Il teatro è il luogo delle visioni e noi abbiamo bisogno delle visioni per poter ritrovare un po' l'orientamento. Parte il 22 ottobre la stagione del Teatro Kismet di Bari e lo fa all'insegna degli sconfinamenti. Il programma è quello firmato da Teresa Ludovico, tiene insieme l'innovazione dei nuovi talenti, l'indagine di temi sociali contemporanei, la riscrittura dei commedie diventate capolavori, la stand-up comedy, lavori dedicati ai più giovani e poi gli omaggi ai grandi maestri. 35 gli spettacoli in agenda fino ad aprile all'Opificio per le Arti, con interpreti e registi della scena contemporanea, da Antonio Rezza, Filippo Nigro con la compagnia Motus, Giorgio Montanini e Mariangela Gualtieri, soltanto a citarne alcuni, oltre ai debutti delle nuove produzioni. Prima di tutto l'innovazione, perché l'innovazione è praticamente il prosieguo della tradizione. Facciamo degli omaggi a dei maestri che per noi, nel nostro percorso, sono stati importanti, come per esempio Antonio Tarantino, che è scomparso un anno e mezzo fa e noi abbiamo messo in scena diverse sue opere e quest'anno proponiamo il suo testamento spirituale, Barabba, di cui ho avuto il piacere di curare la regia. L'auspicio è quello che non era così scontato, intanto di tornare a sedersi uno accanto all'altra in teatro e non avere paura. E alle paure da sempre si risponde in un solo modo, con la conoscenza, con i saperi e con la cultura. Il Teatro Chismet è per il comune di Bari, che qui rappresento, a nome del sindaco Antonio De Caro, un punto di riferimento importante, storico, che racconta la nostra città, ma che soprattutto in periferia della città, che in qualche modo è anche la visione intera dell'assessorato alla cultura e al turismo della nostra città, nella quale vuole investire. Rete Ferroviaria Italiana annuncia la fine dei lavori a Barletta per i sottovia di Via Andrea e Via Vittorio Veneto per il 28 maggio 2023. Il sindaco Cosimo Canito ha fatto il punto della situazione mentre i residenti vedono una nuova speranza nella data indicata. 28 maggio 2023 è questa la data che cerchiano in rosso sul calendario i residenti di Via Andria e Via Callano, che da anni attendono a Barletta la fine dei lavori per i sottovia in corrispondenza degli ex passaggi a livello. La scadenza è stata fissata direttamente da Rete Ferroviaria Italiana che si occupa del cantiere, attraverso i responsabili del procedimento. Io ho avuto questo comunicato da RFI, che è la stazione appaltante, nella persona dell'ingegnere Parla, che mi ha confermato il cronoprogramma che prevederà, e io mi auguro che mantengano, rispettino il comunicato, la data che ha detto lei. Quindi noi vigileremo perché questa data venga rispettata. Il cronoprogramma rappresenta uno dei punti focali all'attenzione dei cittadini che da tempo chiedono una nuova e funzionale connessione con il centro. Dopo le speranze disattese di quasi quattro anni e gli intoppi dovuti al Covid, la data indicata rappresenta una nuova speranza. Continuare ad avere pazienza perché siamo alla fine della conclusione di queste due opere importantissime e strategiche per lo sviluppo economico della nostra città. Una bussola cartacea e interattiva per orientarsi tra i servizi di prima necessità. È stata presentata l'ottava edizione della mappa della solidarietà di Foggia. A Foggia la solidarietà ha la sua mappa. È stata presentata nelle scorse ore l'ottava edizione della mappa della solidarietà, un'idea realizzata dal Centro Servizi per il Volontariato con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. La mappa rappresenta anche graficamente le sinergie positive tra istituzioni e terzo settore. Uno strumento semplice, utile e pratico destinato ai bisognosi del territorio, messi così nelle condizioni di accedere con maggiore facilità ai servizi essenziali. È una mappa interessante perché vengono riportati sulla mappa tutti i punti dove ci sono i servizi che vengono dati ai cittadini. In un primo momento nacque questa mappa per le esigenze dei migranti, ma abbiamo riscontrato col passare degli anni, soprattutto dopo la pandemia, con queste altre problematiche e dopo anche la questione della guerra tra la Russia e l'Ucraina, quindi c'è stato un aumento. È una mappa anche questa volta, a differenza delle altre, anche interattiva, perché dietro alla mappa viene riportato il QR code, così facilmente scaricabile sul cellulare. Che dire, voglio soprattutto ringraziare quanti hanno collaborato, non soltanto il personale del CSV, ma soprattutto i volontari che poi realizzano non la mappa in quanto cartaceo, ma realizzano proprio a risolvere le problematiche di tante persone. Quindi tanti volontari, su ogni puntino di quello ci sono un gruppo di volontari che dedica il tempo della famiglia, il tempo loro per gli altri. Quindi è il dono, è la questione di base poi per aiutare questa povera gente. Anche questa edizione del nostro telegiornale termina qui, ma tra poco l'informazione torna in diretta con gli aggiornamenti da Brindisi, Taranto e Lecce. Grazie come sempre per averci scelto, un buon proseguimento.